Professore Savaresi, Politecnico di Milano, guardiamo i vari aspetti della mobilità, il green, l'intelligenza artificiale, la guida autonoma, ecco, il Politecnico dove è più orientato in questo momento? Non è facile? Oh, domanda difficile, il Politecnico sta studiando tutte le direzioni, nel senso che ci sono delle grandi rivoluzioni in atto che sono appunto il green, l'autonomo e i modelli di mobilità, quindi è chiaro che la parte tecnologica è più verso il green e l'autonomo, modelli di mobilità ovviamente riguarda proprio il cambio del comportamento e l'organizzazione della mobilità. Facendo una scala diciamo di, non dico di priorità, di messi in atto di queste iniziative, c'è prima green quindi? Allora green, allora se green vuol dire elettrico diciamo che oggi... In generale, le alimentazioni che portano alla neutralità carbonica? Ma allora io ho un'opinione un po' particolare, cioè che esiste una tecnologia abilitante la rivoluzione che è la tecnologia dell'auto autonoma, cioè senza quella tecnologia noi non riusciremo veramente a cambiare il modello di mobilità e quindi possiamo fare, come dire, qualche piccola variazione sul tema, ma se noi manteniamo l'impianto del modello di mobilità tradizionale la rivoluzione non avverrà veramente. Quindi, cosa succede? Per buttare via le tecnologie attuali? No, assolutamente senza buttare via le tecnologie attuali. Cioè noi per diventare veramente efficienti dobbiamo passare a una mobilità cosiddetta servizio. Quindi parliamo di car sharing, vuol dire ridurre molto il numero dei veicoli, però usarli molto di più e questi veicoli devono essere molto più tecnologici. Questa è la vera rivoluzione ed è quella che abiliterà veramente l'elettrico. Prima di quello passare all'elettrico completo non solo è difficilissimo, ma probabilmente non è nemmeno sostenibile. Quindi non 2035? 2035 è difficile perché a noi servono due salti prima di arrivare all'elettrico completo. Ci serve l'autonomo, ci serve il passaggio alla mobilità servizio e allora sì andremo nell'elettrico completo. Ma i primi due salti richiedono ancora tanto tempo e tanta tecnologia. Ha giusta ragione, si dice, ma perché la Commissione Europea non ha consultato studiosi, professori, come il professor Savaresi, i suoi colleghi, prima di adottare certe scelte? Sono una persona sbagliata qui. Beh, però mi sembra giusto. Cioè la consultazione di chi se ne intende veramente, non senza guardare all'ideologia pure. Ma diciamo che oggi dire tutto elettrico è un'affermazione relativamente semplice e facilmente comprensibile al grande pubblico, che però si dimentica una serie di passaggi intermedi, tecnici, che richiederebbero un po' più approfondimento, ma che però sono quelli che veramente servono. Quindi è un po' banalizzante dire manteniamo tutto il modello di mobilità attuale, passiamo tutto all'elettrico. Non è nemmeno sostenibile e non è nemmeno una buona idea dal punto di vista proprio della sostenibilità ambientale, paradossalmente. Cambiamo argomento, parliamo di simulatori. Il Politecnico di Milano ha messo a punto recentemente un mega, stupendo, incredibile simulatore. L'evoluzione è successiva quando ci sarà? Oh, simulatore di guida? Sì. Allora, i simulatori di guida sono degli oggetti molto interessanti che permettono di accorciare lo sviluppo di alcune tecnologie, senza ovviamente fare tanti chilometri in strada. Sono diventati molto realistici, li stiamo utilizzando per fare i nostri sviluppi tecnologici e sono sempre più... Oggi si parla di digital twin, cioè riuscire a fare tantissimo, fin quasi alla completa progettazione del veicolo e di tutti i suoi aspetti tecnologici. In attenzione alla sicurezza anche? Sicuramente fare sperimentazione con un simulatore non solo è più ecologico, ma anche più economico e molto più sicuro. Arriva anche il prossimo, quindi? Arriva anche il prossimo, sì, ovviamente... State già pensando? La prossima generazione ci stiamo pensando arriverà anche quello.